Il Festival Il Fiume e la Memoria che dalla fine degli anni 90 anima con spettacoli di teatro, concerti, retrospettive cinematografiche, mostre, esposizioni ed eventi pubblici, l'attività culturale del Centro Storico di Pescara, torna ad essere protagonista anche per l'estate 2022 con un cartellone composto da una mostra e tre spettacoli direttamente prodotti dal Festival e concentrati nel fine settimana che va dal 22 al 24 luglio. Il Clou ci sarà venerdì 22 luglio con lo spettacolo capolavoro d'Annunziano Notturno e con le esibizioni di Paola Gasman e Milo Vallone. Toccaro un po' anche ai turisti che hanno sempre frequentato questo evento con molta generosità, chiaramente negli anni è un po' cambiata nella volumetria, nell'offerta del quantitativo di spettacoli come d'altronde anche quest'anno, ma grazie al cielo, grazie a tanti fattori che si danno appuntamento non cambia nella qualità. Per quanto sia un'edizione ridotta di tre giorni riusciamo ad avere comunque tre spettacoli completamente prodotti dal Festival, sono anteprime, prime nazionali e il che quindi va da sé che richiede anche un dispendio creativo, energetico, lavorativo, non indifferente. Produrre tre allestimenti, lavorare in contemporanea su tre cast, tre scenografie eccetera è un lavoro abbastanza impegnativo. Un'edizione ridotta come tempi ma sicuramente non come contenuti. Tre serate importanti, due delle quali si svolgeranno a largo dei Frentani e l'altra con l'esperienza di teatro diffuso sul pontile dei Trabocchi e sarà sicuramente un'esperienza importante. Parliamo soprattutto del nostro tratto di fiume, fiume che è stato dimenticato per tanti anni, quindi benvengano queste iniziative perché ci si potrà permettere di fare uno studio più approfondito e di conoscerlo in tutte le sue bellezze. Quindi questa manifestazione è soprattutto anche per quei ragazzi presi per strada, quindi non ce ne dimentichiamo. Quindi devo ringraziare veramente tanto Milo Vallone che ci ha permesso e mi ha dato questa opportunità. La Walter Tosto nonostante sia un'industria è ormai da cinque anni di fianco a Milo in questo bellissimo progetto. Anche come simbolo che la grande industria può unirsi a dare valore alla cultura, ma soprattutto la cosa più importante poi è appoggiare e valorizzare il territorio. Quello che sta facendo Milo è un lavoro meraviglioso di memoria di questo fiume e poi di uno dei nostri più grandi artisti e poeti che è D'Annunzio.